Tra Manuel Bortuzzo e Lulus e la Siela l'Uvastori non decolla. I due concorrenti del grande fratello VIP sono sempre più distanti. In particolare, il 22enne triestino pare sottrarsi alle attenzioni della principessa. Tanto da arrivare a pulirsi la bocca dopo un bacio. Che sia la fine della loro liaison? Solo pochi giorni fa, Alfonso Signorini aveva mostrato le immagini dei baci, delle coccole e delle carezze tra Manuel e Lucrezia. Il tutto ha fatto pensare alla nascita di un sentimento tra i due geffini e in molti hanno cominciato a tiffare per questa coppia. A distanza di pochi giorni però, le cose sembrano essere cambiate. La loro lube story non decolla e sembra che Manuel stia prendendo le distanze da Lulu. Il ragazzo sembra non sopportare la atteggiamento soffocante della giovane principessa. Tanto che nelle ultime ore, si è reso protagonista di un gesto che non lascia adito a dubbi. A testimonianza della sua indifferenza infatti, Bortuzzo si è pulito la bocca subito dopo essere stato baciato da Lulu. Nel dettaglio, mentre Manuel era in giardino impegnato a parlare con Nicola, è stato raggiunto da Lulu che gli ha preso il viso tra le mani stampandogli un bacio in bocca. Il ragazzo infatti, non appena Lulu si è voltata, si è pulito la bocca. Un gesto che fa intuire come ormai, non sembrano esserci possibilità che possa nascere una lube story come tanti si aspettavano. Quello accaduto poche ore fa non è l'unico gesto di gelo compiuto dal 22enne mutatore nei confronti della principessa. In occasione di un gioco proposto dal GF VIP, Lucrezia ha provato a baciarlo. Ma Manuel, con una scusa, è riuscito a evitarlo. Inoltre, Lulu, sempre in cerca di attenzioni, si è avvicinata a Manuel, il quale ha avuto un gesto di stizza dicendole di stare attenta a non sporcargli la camicia perché costa tantissimo. Tutti gli atteggiamenti di Bortuzzo visti in queste ultime ore al GF VIP fanno pensare che il geffino voglia allontanarsi da Lulu. Forse anche perché è sofferente al comportamento soffocante di lei. Molto probabilmente, Lulu non è la ragazza giusta per lui, proprio come aveva sostenuto il padre di Bortuzzo qualche giorno fa. Il signor Franco infatti, chiamato a dire la sua su una possibile storia tra il figlio e Lulu, aveva dichiarato che la ragazza non era il tipo di Manuel.